Dopo mesi di chiusura e di didattica a distanza necessaria a causa della diffusione del Covid-19, gli studenti tornano sui banchi di scuola. L'emozione e la tensione del momento è palpabile anche per gli studenti del liceo Duca degli Abruzzi. Un po' di ansia. Ansia per le norme anti-Covid o per il primo giorno di scuola? Un po' tutto, sinceramente. Dopo l'appello, tutti i ragazzi hanno seguito la modalità di entrata studiata nei minimi dettagli. Uno alla volta hanno eseguito il lavaggio delle mani con il disinfettante e la lettura con il termoscanner della temperatura. Dopo aver percorso i corridoi nel senso di marcia predisposto, gli studenti hanno raggiunto l'aula magna per il discorso di benvenuto della preside Antonia Piva. Abbiamo bisogno di darci coraggio, abbiamo bisogno che qualcuno ci dica siete stati bravi ragazzi, siete stati bravi, lo dovete essere ancora. Il nostro obiettivo, vedete, quest'anno non è solo nostro, abbiamo un obiettivo ancora più sfidante. Partiamo noi, ma noi vogliamo far partire il nostro paese. La dignità e il prestigio dell'Italia si basa sulla sua cultura. Ora la fabbrica più grande di cultura è la scuola. Se non riapre la scuola la cultura italiana langue si disperde, non è più nulla. Noi abbiamo 16 classi prime, oltre 400 matricole, 1900 studenti, 200 dipendenti, numeri grandi. Allora adesso appena accolto, chiaramente in modo molto distanziato, con le mascherine, le prime tre classi e l'impressione è meravigliosa. Mesi di duro lavoro hanno preparato corpo docenti e amministrazione scolastica ad affrontare la maggior parte dei problemi. I timori però non sono finiti. Le preoccupazioni ce ne sono ed è giusto che sia così, perché la preoccupazione è segnale d'amore. Noi ci preoccupiamo per le persone che amiamo. All'uscita i neoliceali sono più sereni e disponibili al dialogo. L'ostacolo, che ritenevano quasi insuperabile, è iniziato nel migliore dei modi. Bene, alla fine non è un dramma storico la mascherina.